Ben ritrovati amici di Guitarmind, oggi ascoltiamo questa bellissima Paolino Bernabé, modello 40 del 2003, interessante per due motivi, perché è una top di gamma dell'epoca di questa linea e perché in questi anni era ancora vivo Paolino Bernabé padre. Inoltre viene venduta con la ricevuta della Guitarrerie di Parigi. Grazie a tutti.